32 33 4 8 come ha fatto il buon Giorgio che io vi ringrazio soprattutto perché attraverso le vostre sannazioni vi ho saltato alla zona teatro greco l'ingresso della zona nord come vedete siamo al santuario da chi ci sta mandando siete i migliori inviati sul campo facciamo una cosa allora arriviamo per ora promotion e musica e quant'altro mandiamo in diretta vediamo se riusciamo a bere anche ci si aspettava questa pioggia si aspettava questa pioggia ma è chiaro che è venuto giù per 4 ore adesso ha leggermente calmata l'intensità della pioggia ma continua